Musica Nel cuore dei Sassi, nel cuore dell'estate, Matera ha festeggiato così con tre giorni di momenti celebrativi, liturgici e di catechesi, 13, 14 e 15 di agosto, Maria assunta al cielo nella chiesa dei Santi Pietro e Palo Alcaveoso, la più antica della città. Ieri il clou dei festeggiamenti con la processione che ha percorso le vie dei Sassi, muovendo da piazza San Pietro Caveoso lungo via Madonna delle Virtù fino alla chiesa di Madonna delle Virtù La Nova, per poi far ritorno lungo lo stesso tragitto. La celebrazione eucaristica del 15 di agosto è stata presieduta dalla materano Monsignor Biagio Colaianni, arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano, il quale ha accolto l'occasione per esortare alla pace. Maria è il segno della lotta e della vittoria contro il male e gli uomini si devono sempre sentire sollecitati a contrastare il male. Il male è stato sconfitto dal nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo crederci veramente e porre quei piccoli gesti quotidiani di pace, di dialogo, di confronto, di collaborazione e coesione con tutti perché la logica della guerra, della contrapposizione della violenza non ci sia. Noi abbiamo la responsabilità non di decidere per le grandi nazioni, ma abbiamo la responsabilità di creare una mentalità, uno stile di vita, una logica del vivere assieme che contrasta ogni forma di guerra e di violenza. Affidiamoci a Maria che ha vinto il male in Cristo e affidiamoci al Signore perché ci aiuta ad essere persone di fede, capaci di pace. Una festa intima, intensa, da sostenere e incentivare. Spero che questa festa possa essere anche un invito a recuperare i valori fondamentali della nostra fede, della nostra vita cristiana. Questo è anche il motivo che mi spinge a tenere accesa questa fiammella, per così dire. Tanti mi dicono ma chi te la fa fare? Non c'è tanta gente, anche i confratelli, non sono tantissimi, anzi credo quasi nessuno. Però è proprio questo il motivo, tenere accesa una fiamma, un segno, perché i sassi in maniera particolare possano riacquistare un'anima, la propria anima di devozione alla Madonna e di una fede più autentica.